Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage19, motore Fiat 1002 Fire. Qui lo vedete montato su una Lancia Ypsilon modello 2003-2011, ma come ben sappiamo è comunissimo nelle Fiat Panda, Fiat Punto, Ford Ka, Fiat 500 e così via. Ad ogni modo quello che andremo a fare oggi è la sostituzione del liquido refrigerante e lo spurgo finale dell'impianto. Questa è un'operazione che si fa sia per sostituire il liquido, ma ovviamente quando dobbiamo andare a scaricare l'impianto, ad esempio per effettuare la distribuzione, perché rimuoveremo la pompa dell'acqua, quando bisogna sostituire il termostato, sensore della temperatura, qualche manicotto, scambiatori di calore, radiatore e così via. E' chiaro, questa operazione quindi è valida per quando dobbiamo scaricare l'impianto refrigerante e successivamente caricarlo effettuando per bene lo spurgo. Bando alle ciance, iniziamo subito. Ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Rimuoviamo questa fascetta metallica. Per poi successivamente scalzare il manicotto dal radiatore. Fascetta staccata, recipiente per la raccolta del liquido e siamo pronti a farci la doccia. Grazie a tutti. Fascetta nuova metallica e ricolleghiamo il tubo. Fascetta stretta, diamo una pulita e ci spostiamo nel vano motore. Ricollegato il manicotto, procediamo a preparare la nostra miscela di liquido concentrato e acqua distillata. Per quanto riguarda la quantità, sul manuale sono in totale 4,6 litri per l'intero circuito. Questi, è chiaro, sono totali. Può darsi che alla fine non ne dovremmo inserire così tanti. Tutto dipende da quanto liquido abbiamo scaricato. Ad ogni modo, spostandoci nel vano motore, per comodità rimuoviamo il manicotto di entrata dell'aria. Agganciato questo da un lato alla carrozzeria e dall'altro lato al coperchio della cassa filtro che rimuoviamo interamente. Facciamo questa operazione per raggiungere molto più facilmente e comodamente il primo tappo di sfiato che ci interessa, che è posto sul lato alto sinistro del radiatore. Procediamo a rimuoverlo, mentre la seconda vite di sfiato che ci interessa è presente sul raccordo tra motore e riscaldatore dell'abitacolo. E anche questa andiamo a svitare. Bene, adesso siamo pronti ad inserire il liquido nella vaschetta. Procediamo a riempire il radiatore. Stiamo tranquilli, eccediamo il livello massimo, aggiungendo liquido finché non vediamo fuoriuscire dalla prima vite di sfiato, ovvero quella posta sul radiatore, liquido. Ecco qui, andando ad aggiungere liquido siamo arrivati al livello massimo del radiatore. Si intravedono le bolle d'ariche fuoriescono. Continuiamo ad inserire liquido. Nel momento in cui il liquido fuoriesce e mentre continua a fuoriuscire immediatamente avvitiamo la vite. Ripeto, non vi preoccupate se il livello è superiore alla linea del massimo posta sulla vaschetta, è tutto normale. Nel frattempo se vogliamo possiamo riposizionare il manicotto di entrata dell'aria, filtro e coperchio della cassa filtro. Ecco qui come vi ho detto il livello adesso è superiore al livello massimo, sostanzialmente è al bordo superiore del radiatore. Dato che poco prima il liquido è fuoriuscito dalla parte sinistra. Ora ci concentriamo sull'altra vite di sfiato. Andando a premere il manicotto tra radiatore e motore ci possiamo anche assicurare che questo sfiato qui sia libero, non sia otturato. Infatti premendo il manicotto più volte sentiremo uscire dell'aria e vedremo anche qualche schizzo di liquido. Ad ogni modo continuiamo ad inserire liquido nella vaschetta finché non lo vediamo fuoriuscire e scorrere dallo sfiato. Nel momento in cui lo vediamo fuoriuscire e mentre sta fuoriuscendo immediatamente avvitiamo la vite. Bene adesso entrambi le viti sono chiuse. Come potete vedere nella vaschetta il liquido è a un livello altissimo, non vi preoccupate, è sopra il livello massimo ma è tutto normale. Praticamente il livello è qua. Possiamo chiudere il tappo e accendere l'auto. In pratica adesso per concludere lo spurgo cosa bisogna fare? Innanzitutto lasciare l'auto per 2-3 minuti al minimo. Successivamente fare delle accelerazioni graduali portando il motore a 3.000-3.500 giri ripetutamente. Finché non raggiungiamo 3 accensioni e spegnimenti dell'elettroventola, ovvero riscaldando il motore bisogna fare in modo che si accenda la prima volta l'elettroventola. Successivamente lasciando il motore al minimo questa si deve spegnere da sola. Successivamente continuiamo con le accelerazioni per altri due accensioni e spegnimenti dell'elettroventola. Nel caso in cui l'elettroventola non si spegnesse quindi arriveremo all'ebollizione del motore abbiamo sicuramente qualche problema, qualcosa che non va. Altra cosa da stare attenti durante la procedura è controllare sempre il livello nella vaschetta. Questo ovviamente non deve mai scendere sotto al minimo. Se dovesse scendere spegniamo l'auto, attendiamo che il motore si raffreddi e procediamo a rabboccare per riniziare nuovamente quest'ultima procedura di spurgo. Altra cosa è che bisogna effettuare la procedura con il climatizzatore se presente spento e il riscaldamento acceso con aria calda al massimo. Questo per fare in modo che il circuito sia completamente aperto, compreso e chiaro del radiatorino riscaldatore all'interno dell'abitacolo. Quindi ricapitolando brevemente ciò che dobbiamo stare attenti durante la procedura di spurgo sono il livello del liquido che questo non deve mai scendere al di sotto del minimo e la temperatura da tenere sotto controllo. Per le auto con indicatore sul quadro strumenti è molto semplice, basta accertarsi che la lancetta dell'indicatore non superi mai la metà, ovvero la temperatura di esercizio del motore. E nel momento in cui si accende l'elettroventola la stessa dopo un po' deve spegnersi da sola per mantenere costantemente il motore entro una certa temperatura di esercizio. Mai andare in ebullizione e quindi raggiungere i 100 gradi, lì avremo un problema. Purtroppo nei modelli di auto ad esempio come questa Lancia Y non abbiamo l'indicatore sul quadro strumenti, quindi dobbiamo per forza utilizzare uno scanner OBD, una diagnosi collegata che ci indica in tempo reale la temperatura del motore. Ed ecco che come potete vedere siamo ancora a circa 85 gradi, non abbiamo raggiunto la temperatura ottimale di esercizio del motore e continuiamo con le nostre progressive accelerate per far riscaldare ancora di più il motore. Ripeto questo finché l'elettroventola si accende. Ripeto questo finché l'elettroventola si accende. Come avete potuto vedere l'elettroventola si è accesa, dopo poco si è spenta da sola e controllando la temperatura per darvi delle cifre a 97 gradi la ventola si avvia, il motore ovviamente scende di temperatura e quindi questa si abbassa fino a circa 90 gradi, 92 gradi. E allora continuiamo con le nostre accelerazioni fino a far attivare e disattivare per 3 volte totali l'elettroventola. Dopodiché siamo a posto. Facciamo raffreddare il motore, controlliamo il livello, questo deve stare al massimo sulla vaschetta, se è necessario rabbocchiamo, se è in eccesso lo aspiriamo con una siringa. Bene anche questo video finisce qui come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuto una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!